Bentrovati al Tg Sordi di Lecce 7. Continuano a crescere i contagi da Covid in Puglia e in alcuni centri della provincia di Lecce i sindaci decidono di limitare le occasioni di assembramento con nuovi divieti. E quanto accade a Gallipoli è copertino. Secondo le ultime rilevazioni della ASL i casi sono oltre 1.500, più di 100 in più rispetto alla settimana precedente. Tricase è arma dei carabinieri in lutto per la morte di Arturo D'Amico. 54enne comandante della stazione di Campomarino, in provincia di Campobasso deceduto nelle scorse ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. A causa del virus aveva perso da poco anche i genitori e i due fratelli. Tragedia nella notte sulla strada statale 274 Un 35enne di Nardò è morto sul colpo a seguito di uno schianto frontale con un'altra auto. Coinvolte nell'impatto una Fiat 500 guidata dalla vittima Sergio Anglano ed una Fiat 500X il cui conducente è rimasto fortunatamente illeso. Maxi sequestro di hashish e marijuana a maglie I carabinieri insospettiti per la presenza di un furgone nel parcheggio di un centro commerciale di poggiardo hanno rinvenuto al suo interno ben 3,2 quintali di droga. In manette due cittadini albanesi Vittoria importante è in chiave a promozione per il Lecce che sbanca Reggio Emilia rifilando un sonoro 4-0 alla Reggiana iniezione di ottimismo per i giallorozzi di Mister Corini che si preparano alla sfida di sabato contro il Chievo.